L'amore da slancio e fecondità alla vita e al cammino di fede, senza l'amore sia la vita sia la fede rimangono sterili. È la riflessione offerta da Papa Francesco prima dell'Angelus. Partendo dal Vangelo odierno di Matteo, il Pontefice ha ricordato che per essere veri discepoli di Gesù bisogna predicare e operare ciò che veramente conta ed è essenziale, vale a dire l'amore. Noi siamo stati creati per amare ed essere amati. Dio che è amore ci ha creati per renderci partecipi della sua vita, per essere amati da Lui e per amarlo, e per amare con Lui tutte le altre persone. Questo è il sogno di Dio per l'uomo, e per realizzarlo abbiamo bisogno della Sua grazia. Abbiamo bisogno di ricevere in noi la capacità di amare che proviene da Dio stesso, e Gesù si offre a noi nell'Eucaristia proprio per questo. Dopo la preghiera mariana, Papa Bergoglio ha ricordato la beatificazione il 28 ottobre a Cascias do Sol di Giovanni Schiavo, sacerdote dei Giuseppini del Murialdo. Nato sui colli vicentini all'inizio del Novecento, fu inviato giovane prete in Brasile, dove lavorò con zelo al servizio del popolo di Dio e della formazione dei religiosi e delle religiose.